Nel corso della notte ci sono stati 160 persone, sono state soccorse a largo di Siracusa. Noi però adesso ci trasferiamo, ci colleghiamo con Lampedusa, dove in un centro di accoglienza c'è il nostro Matteo Parlato. Matteo. Buongiorno, sono davanti al centro di accoglienza di Lampedusa, insieme a me c'è l'avvocato Valeria Geraci, sei il vecino. Allora, avvocato, quanti sono i minori che sono dietro quel cancello? Attualmente i minori sono 76, di cui 4 sono minori accompagnati, cioè sono accompagnati dal loro nucleo familiare e gli altri sono tutti minori non accompagnati, quindi senza i genitori. Quanti anni hanno? I non accompagnati, la loro età si aggira dai 14 anni fino ai 17 anni. Ci sono minori più piccoli? I minori più piccoli sono attualmente quelli accompagnati, che hanno anche un'età di 4, 5, 6 anni. E quanti sono in tutto? Quattro. Senta, ogni anno la storia ci dice che come le condizioni meteo diventano favorevoli, si apre questo flusso migratorio, quindi è una cosa che non è inaspettata. Che tipo di accoglienza trovano una volta che, come tutti gli anni arrivano e vengono portate qui? Sì, riguardo a ciò, infatti Save the Children ci tiene a sottolineare che non bisogna affrontare queste situazioni come un'emergenza, perché trattasi invece di un dato certo. Quello che un minore deve ricevere quando arriva in questo centro è immediata protezione, immediata garanzia dei suoi diritti come minore. Quindi, prima di tutto, un trasferimento velocissimo, entro le 72 ore. E nel periodo in cui deve restare qui, deve essere separato dagli adulti, deve avere un'accoglienza dignitosa, dove vengono tutelati i suoi diritti di minore. Noi come Save the Children forniamo assistenza legale, nonché assistenza allo sbarco per i minori. Scusi se lo interrompo, Avvocato, però lei dice che devono essere separati, tutelati. Ora il centro è stato alleggerito, ma fino a poco tempo fa, a fronte di una capienza di 300 persone, ce n'erano più di 1000. Come si fa a tenere i minori separati dai maggiorenni quando c'è questa alta densità? Save the Children, infatti, raccomanda un trasferimento immediato, perché non è sempre possibile riuscire a controllare e monitorare la situazione minuto per minuto. Ovviamente noi siamo sempre presenti nel centro per garantire questa separazione e la tutela dei minori all'interno del centro. E ci si riesce quando la densità diventa così alta? A volte può essere difficile riuscire a controllare ogni momento della giornata. Comunque noi durante questi arrivi massicci siamo sempre presenti nel centro, quindi siamo sempre a controllare che i minori vengano separati dagli adulti. Cerchiamo delle misure alternative, ma ovviamente non sono idonee a una permanenza di un minore all'interno di un centro. Perché per ovviare a tante problematiche ci troviamo poi di fronte ad altri tipi di problemi, come un'impossibilità di poter vivere all'interno di un centro. Senta, il centro è stato decongestionato, ci sono stati dei voli, una staffetta aerea che ha portato via centinaia e centinaia di persone. Adesso com'è la situazione all'interno? Adesso la situazione è più calma, ma comunque siamo su un range di persone più alto di quello possibile, perché siamo intorno alla presenza di 370 persone e quindi comunque siamo al di sopra della soglia di possibilità di ospitalità all'interno del centro. Oggi le condizioni meteomarine non sono buone, per cui è ragionevole pensare che non ci saranno altri sbarchi, ma se ci fossero, quindi torneremo un'altra volta a saturare il centro, questo mi sta dicendo? Non posso prevedere le condizioni meteorologiche o quant'altro, però di sicuro se ci sarà un ulteriore afflusso massiccio come nei giorni scorsi, assolutamente sì, tanto che Save the Children si sta preoccupando di far trasferire molto velocemente i minori che sono ancora presenti nel centro. Quando i minori vengono trasferiti da qui? Dove vengono trasferiti e che tipo di garanzie gli vengono date? Allora, i minori vengono trasferiti e collocati in delle comunità per minorenni. Save the Children segue i minori poi anche nelle comunità. Noi abbiamo dei team, siamo qui a Lampedusa, ma siamo anche in Sicilia, in Puglia, in Calabria, a Milano, a Roma, quindi proprio per monitorare la loro permanenza poi all'interno delle strutture. Forniamo consulenza legale e con il mezzo anche di un mediatore, che ci aiuta a comprendere anche le esigenze specifiche di ogni minore, di ogni, relative anche al paese da cui proviene, per comprendere le necessità specifiche anche di ogni minore. Senta, chiaramente voi vi occupate dei minori, ma spesso con i minori piccoli, avete a che fare anche con i genitori. Queste persone da dove vengono e quali sono i motivi che li hanno portati a lasciare le loro case, i loro paesi? Bisogna vedere ogni Stato, diciamo, nel senso ogni storia ha la sua particolarità. Poi normalmente ciò che li fa scappare sono le guerre, sono pericoli, instabilità nei loro paesi, che li costringe, rischiando la loro vita, di venire qui. Poi ci sono anche dei migranti economici che vengono qui per cercare una vita migliore. Comunque sono tutte persone disperate che lasciano i loro paesi per... Che sono stati, diciamo, vengono buttati fuori dal loro paese, che sia dalla guerra che sia dall'isperazione. Non è un viaggio di piacere, questo ci sta dicendo. No, non è un viaggio di piacere, assolutamente. Va bene, se non avete altre domande, da Lampedusa, vi restituisco la linea. Grazie al nostro Matteo Parlato. Adesso invece...